Un parco macchine straordinario, superiore a qualcuno di voi ha avuto il coraggio di scrivere a 200.000 euro di valore. Ecco, le mie automobili sono, perché non sono mai stato un grande appassionato di auto importanti, le mie automobili sono una Q7 acquistata 8 anni fa con 330.000 chilometri. Valore, dice la Guardia di Finanza, 12.000 euro. Un Pinsgauer, una macchina comperata, quella che usava l'esercito sloveno e l'esercito austriaco, comperata da un obbista, Nicola Pagnani, che me l'ha regalata. Una Mini Morris, la Pinsgauer del 1979, autostorica. La Land Rover del 1980, quindi ha 34 anni, non ha neppure il servo sterzo. La Mini Morris, quella con le bordature di legno del 1976, regalo di Niccolò Ghedini al matrimonio. Queste sono le mie auto. Valore stimato dalla Guardia di Finanza, 31.800 euro. E secondo me 12.000 euro per la Q7 non merità nessuno.